Buonasera a tutte e a tutti e un benvenuto a questo nuovo ciclo di lezioni sul romanzo contemporaneo. Saluto in anticipo anche chi si collegherà poi indifferita e potrà seguire registrate queste quattro lezioni, in particolare gli insegnanti che potranno, se vorranno, vedere e visionare questi incontri nelle loro aule con gli studenti perché abbiamo dato questa possibilità quest'anno. Io ringrazio naturalmente un benvenuto e un grazie grandissimo a Marco Belpoliti che inaugura questo ciclo di lezioni sulla letteratura della diaspora al di qua e al di là dell'oceano. L'abbiamo intitolata con una lezione su Primo Levi di cui credo sia proprio il maggiore studioso in Italia. Quindi grazie davvero. Ci sarebbe molto piaciuto anche per il tipo di lavoro a cui si riferisce, il tipo di poterlo fare in presenza questo incontro, ma ci è stato fortemente sconsigliato in questo momento, ancora un po' molto preoccupante. Speriamo di poter riprendere al più presto, almeno a metà febbraio, di poter riprendere in presenza i nostri incontri. Un benvenuto e grazie ad Angela Albanese che ha curato anche questo ciclo di incontri, che lei già l'aveva fatto l'anno scorso e che coordinerà anche e introdurrà il corso e i nostri relatori. E do anche un saluto, un saluto cordiale alla professoressa Elena Mortara che si è collegata con noi oggi per seguire questa prima lezione del corso che lei concluderà invece il 31 gennaio con una lezione su Singer e Saul Bello. Bene, grazie a Idunova, Idunova che ci sta seguendo ormai da tre anni, questo è il terzo anno, rendendo possibile di continuare con questa modalità dei webinar, le nostre attività e di poter continuare a tenerci in contatto, cosa che è stata possibile grazie al web. Bene, io ho da ringraziare tutti, da augurarvi buon ascolto, passo la parola ad Angela che presenterà il nostro relatore di oggi. Grazie Marco ancora. Grazie. Eccoci, buon pomeriggio a tutti e tutte, benvenuti e benvenute, siamo tornati, siamo di nuovo qui, molto felici di esserci naturalmente, nonostante le condizioni quasi proibitive. Presento Marco Belpoliti, potrei occupare tutto l'ora che abbiamo a disposizione, quindi Marco sei veramente infinito, quindi Marco Belpoliti, scrittore e saggista, mi insegna critica letteraria, letterature e arti visive all'Università di Bergamo, con Elio Grazioli, dirige dal 1991 la collana Riga, ora edita da Podlibet, è direttore della rivista e della casa editrice nel web 00, che tutti ormai frequentiamo con affetto e interesse. Ha ricevuto il premio americano The Bridge per la saggistica, per il libro, questo librone qui che vi mostro, Primo Levi di fronte e di profilo, 2016, è stato visiting professor al prestigioso Politecnico federale di Zurigo nel 2019, ha curato moltissimi volumi di Primo Levi, autore di cui oggi ci parlerà, la nuova edizione delle opere complete in tre volumi nel 2016 e 2017, sempre per l'editore Einaudi, per il quale aveva curato già dieci anni prima due volumi appunto delle opere sempre di Levi. Ha curato con Nunzia Palmieri il meridiano Mondadori dedicato a Gianni Celati, che abbiamo salutato proprio in questi giorni con grande tristezza. Ricordo appena qualche titolo di volumi di Marco Belpoliti, L'occhio di Calvino del 1996 e poi 2006, Italo, che ho da qualche parte, perché sono anche belli i libri di Marco, eccolo qui, quindi mi piace mostrarli, Italo e poi 70 nel 2001 e 2010 per Einaudi, Il Corpo del Capo ripubblicato da Guanda nel 2018, Pasolini in salsa piccante, Guanda 2010, e poi Camera straniera Alberto Giacometti e lo spazio del 2012, L'età dell'estremismo, sempre Guanda 2014, e più recentemente il bellissimo Pianura, che abbiamo anche avuto modo di presentare per i nostri martedì della Look, e arriviamo appunto a Fotolevi, il neonato 2021 per l'editore Acquario. Nella collana riga ha curato i volumi dedicati a moltissimi autori, alcuni già citati, appunto Giacometti, Delfini, Calvino, Levi, Arbasino, Steinberg, Manganelli, Camporesi, Iesi, Brancusi, Parise. Le sue opere sono tradotte in giapponese, in spagnolo, francese, collabora con il quotidiano La Repubblica e il settimanale L'Espresso. Torniamo a Levi, appunto con cui apriamo il nostro affondo sul filone ebraico della letteratura al di qua e al di là dell'oceano. Un Levi che Marco Belpoliti ci restituisce attraverso le immagini, un fotolevi appunto, come dice il titolo del suo libro e della conferenza di oggi, una biografia di Levi che Marco Belpoliti ricostruisce e ci racconta attraverso le sue fotografie. Vi passo la parola ringraziandolo e ringraziando tutti voi per essere qui ancora una volta. Grazie Marco. Grazie Angela, buonasera a tutti. Allora, io ho pensato di parlare di Levi attraverso uno strumento che ormai è consueto, insomma sono quasi 200 anni che la fotografia è entrata forse anche di più nella nostra vita. Sicuramente è un'idea quella che mi muove, insomma, a fare questo racconto che farò oggi pomeriggio, di parlare di un autore che noi conosciamo, abbiamo letto, ecco i libri principali, insomma, ecco forse così c'è meno riflesso, forse sì, conosciamo Se questo è un uomo, La tregua, gli appassionati conoscono anche altri libri di Levi, li hanno anche magari studiati, letti a scuola, discussi, ripresi in mano, cioè un autore che si legge e rilegge. Allora io ho voluto un po' fare come una specie di racconto, ecco, perché l'immagine di uno scrittore è spesso legata non soltanto al nostro immaginario, quello che noi ci immaginiamo che sia questo scrittore, che noi incontriamo attraverso i libri, no? Una volta si usava di più, adesso forse un po' meno, c'erano sempre le foto dell'autore nel risguardo, nella quarta di copertina. Gli autori sono vicini e lontani per noi e anche la fotografia è un modo per avvicinarsi all'autore. C'è un'immagine canonica di Levi, che è quella, diciamo, del Levi dell'ultimo periodo della sua vita, anni 70-80, poco prima della morte, dove, diciamo, questo Levi ha questo pizzetto, questa barba, imbiancato, diciamo, sembra come un grande saggio, ecco. E in effetti Levi lo era, anche se rispingeva questa idea, insomma, di una saggezza, di una santità. Ecco, Levi era un uomo molto diretto, molto concreto, molto immediato, anche se la sua personalità, come si vedrà anche da queste foto che vi mostro, che provo a commentare, foto di cui alcuni sono autori importanti della fotografia mondiale, oltre che ovviamente italiana. Ecco, Levi ha cominciato ad essere fotografato davvero, ed è questo l'inizio del racconto, soltanto nella seconda metà degli anni 70, perché, e questo è consostanziale, con, diciamo così, non tanto la conoscenza, ma il riconoscimento della sua opera come scrittore. Levi è entrato nella letteratura italiana attraverso la porta di servizio, che è quella della testimonianza, del testimone. Dal punto di vista letterario possiamo dire che si tratta appunto di un memorialista. Il suo primo libro, e in parte anche secondo la tregua, che in realtà è un romanzo, un romanzo piccaresco nella parte centrale e sostanziale del libro, porta Levi dentro la letteratura italiana, nelle enciclopedie, nelle voci di queste letterarie, o anche nelle antologie, soprattutto come il testimone. In realtà appunto il riconoscimento di Levi come scrittore, perché è scrittore fin dall'inizio, lui stesso voleva essere uno scrittore, lo ha testimoniato, scritto agli amici fin dall'inizio, voleva diventare uno scrittore. Ed è entrato a molta fatica, diciamo anche nel canone della letteratura, italiana. Adesso cominciamo a vedere la prima immagine. Posso manovrarla io? Sì, probabilmente sì. Allora, questa è la prima immagine. Siamo nel 1937. Tutto deve ancora cominciare, no? Non c'è lo scrittore. C'è un ragazzo, a 18 anni, ha concluso gli studi al Reggio Liceo Classico Massimo D'Azeglio, si è iscritto alla Facoltà di Scienze che comprende, allora comprendeva chimica. È la foto che sta in un documento di identità, rilasciato il 9 ottobre del 1941, anno 19esimo dell'era fascista. Si è seduto davanti all'obiettivo della macchina fotografica, non guarda dritto, c'è un po' uno sguardo laterale manifesta se possiamo leggere, insomma, questo aspetto del suo carattere attraverso la fotografia, no? La fotografia è un documento, ma al tempo stesso è anche una testimonianza e al tempo stesso è, come dire, un oggetto che noi possiamo interpretare, no? Roland Barthes ha insegnato, ad esempio, che nelle foto esiste un puntum, cioè qualcosa che ci attira, che ci interessa, che ci colpisce. Allora, sono i suoi occhi a colpire. C'è una timidezza, una sorta di ritrosia. Questo carattere resterà lungo, poi Levi ne parlerà anche in qualche occasione in testi dedicati al suo mestiere di chimico. Niente ci dice che sarà uno scrittore. Ecco, questa è una cosa sorprendente, no? Anche di persone che noi abbiamo conosciuto personalmente, che sorprendentemente diventano degli scrittori e che è una sorta, come dire, di mistero, no? I greci parlavano di ispirazione. Gli dèi, sono gli dèi, soffiano. Soffiano le parole, soffiano nelle orecchie le parole. Però voleva essere uno scrittore. Questo lo sappiamo abbastanza con sicurezza perché già aveva scritto delle poesie, aveva scritto dei testi, aveva anche cominciato nel giornalino della scuola di questo liceo Massimo D'Azzeglio, liceo classico Massimo D'Azzeglio, a scrivere varie cose. Che cos'ha di particolare? Ecco, a 18 anni si entra nella vita, il passaggio dalle scuole superiori all'università. Questo è il punto in cui lo cogliamo con questa immagine. È un piccolo rito di passaggio. Ha già sostenuto l'esame di maturità, gli è capitato un fatto curioso che diventerà oggetto di un racconto pubblicato negli anni Ottanta. È stato chiamato alle armi e lo hanno messo in marina. Ecco, che è una cosa abbastanza curiosa. Insomma, a Torino, diciamo, di acqua c'è il Po. Ecco, non c'è il mare. Ha ricevuto questa minacciosa cartolina rosa e deve presentarsi a Lidoscalo, sul Po, dove appunto atterrano gli idrovolanti e per la tensione nervosa di quel giorno finirà per scrivere malamente il tema. E quindi la prima cosa che noi sappiamo è che verrà rimandato. Verrà rimandato in italiano, prenderà tre. Ecco, è anche una cosa abbastanza consueta a volte. Qualche scrittore lo dice come un titolo di merito dopo essere diventato quello che è diventato, cioè dopo aver scritto e pubblicato. Altri non lo dicono, ma insomma si è anche bocciati a scuola e fa parte dei riti di iniziazione della vita. Oggi è forse diventata quasi una tragedia, la bocciatura. I genitori sono molto preoccupati, ma insomma Levi deve rimediare. La scuola che lui frequenta è divisa tra maschi e femmine. La parte femminile ha come insegnante Cesare Pavese. Cesare Pavese sarà poi un personaggio che tornerà nella sua vita, perché Cesare Pavese insieme a Natalia Ghisbu sono le due persone che leggeranno il dattilo scritto di Se questo è un uomo. e lo bocceranno. Sarà Pavese in particolare, anche se poi toccherà il compito ingrato a Natalia di spiegare a Primo, che non è un parente, perché la famiglia Levi, da cui viene Natalia, Giuseppe Levi, il padre, che è un clinico e un insegnante universitario, sarà professore di due premi Nobel. Si conoscono abbastanza bene e dovrà spiegargli che non è ancora il momento di pubblicare un libro simile. C'è un rifiuto, un rifiuto che probabilmente è quello di Pavese, abbastanza complesso, su cui sono state scritte varie cose, su cui non è mai stata trovata la lettera di rispengimento, anche perché, come poi ha raccontato Levi, che vi sarà un dialogo tra lui e Natalia. La seconda foto, su cui voglio un attimo, ecco un attimo, scusate, non sono riuscito a farla entrare, eccola qua, benissimo. Vedete, questa foto indossa un capo, una giacca da montagna. Non siamo ancora lo scrittore, non è ancora entrato dentro questo ruolo. Noi sappiamo che Levi, quando scriverà Piccolo, che è il personaggio di questo racconto, che è, diciamo, l'involucro, il centro letterario di Sequestro un uomo, cioè il canto di Ulisse, sappiamo che quando gli spedisce la prima versione di questo capitolo, che probabilmente ha scritto durante un intervallo, durante il pranzo, quando lavorava la Duco, questa fabbrica di vernici, e dove aveva molto tempo libero, perché insomma non l'avevano ancora messo a lavorare a pieno regime. Nella lettera che scrive, a Piccolo gli spiega che lui ha già in mente un secondo libro. Questo secondo libro è La Tregua. Pensate che siamo nel 1946, il libro uscirà nel 1963. Ecco, questo è l'asso di tempo in cui Levi diventa uno scrittore per se stesso, possiamo dire. Lo sarà poi per gli altri dopo il 1963, ma lo sarà ancora di più dopo il 1975 e saranno gli anni Ottanta in cui ci sarà un riconoscimento anche dalla parte della critica letteraria italiana che salvo rare eccezioni, rare eccezioni, tra cui Italo Calvino non l'ha riconosciuto come età. La foto probabilmente risale al 1942. Ha una cosa particolare, perché come voi sapete l'edizione del 1958, che è quella che noi leggiamo, se questo è un nome uscito in prima edizione nel 1947, ha un inizio diverso dell'edizione del 1947 che inizia partendo parlando degli ebrei che sono internati nel lager di Fossoli. Invece l'edizione del 1958 menziona, in quell'inizio straordinario, favoloso in cui Levi parla anche di se stesso in una forma in parte enigmatica, ma insomma lo si può leggere anche in trasparenza. Questo giudizio che dà su se stesso poi dirà in modo molto diretto, immediato, che era un partigiano schiappino. Ecco, l'edizione del 1958 reca la testimonianza della cattura da parte dei militi fascisti. Allora, questa foto, che cosa ha di curioso? è la foto che Levi aveva in tasca in questi documenti falsi che si era procurato e quando, dopo l'8 settembre del 43, in Valle d'Aosta, in questa piccola nascente banda partigiana che non riuscirà a nascere, perché sarà poi subito bloccata durante un rastrellamento da parte della milizia fascista che intendeva colpire un altro gruppo partigiano e in questo rastrellamento vengono coinvolti attraverso una spia anche questi giovani torinesi che si stavano organizzando. Questa fotografia era in tasca e cosa fa Levi? Beh, Levi durante il trasporto diciamo così dall'Alta Valle dove si trovavano ad Aosta l'ha masticata, se l'ha messa in bocca e l'ha mangiata. Ecco, questa cosa nel tentativo di nascondere ovviamente la sua appartenenza alla virgolette razza ebraica che era il problema che l'aveva spinto ad andare in montagna insieme anche all'idea di essere un partigiano di combattere. Questa immagine mangiata è come se degluttisse la sua stessa immagine la introiettasse in modo letterale non solo in senso figurato. Passiamo alla terza immagine che fa un salto temporale. Il salto temporale non ci sono immagini se non quelle della famiglia del libro del 1947. Questa è neanche nel libro del 1958 se qualcuno ha visto la prima edizione che figura nei saggi Enaudi i saggi quelli color mattone rossi quindi non è rappresentato come un libro di narrativa ma piuttosto come un saggio come un documento come appunto una memoria anche se è evidente già subito nel 1947 i recensori tra cui Calvino Cesare Casis Caiumi e altri capiranno subito che si tratta di uno scrittore. Lo capiranno da che cosa? Dal modo con cui è scritto il libro dalla sua lingua dal suo linguaggio dal modo con cui il libro è costruito è un montaggio noi abbiamo trovato delle edizioni dati lo scritte precedenti l'edizione del 1947 pubblicata da De Silva questa piccola casa di Tice di Torino e si vedono molto bene i cambiamenti fatti da Levi correzioni aggiunte è un montaggio Levi è uno scrittore che monta monta i suoi libri il libro diciamo di montaggio per eccellenza due libri per eccellenza sono il sistema periodico che è modellato sulla tavola di Mendeleev e sono tanti singoli racconti non è un romanzo è un libro di racconti dentro una cornice questa cosa era abbastanza curiosa all'epoca insomma non erano molti libri così sembrava quasi uno scrittore postmoderno se possiamo dire così che agisce anche sul tema del montaggio un po' come avviene nel cinema monta la propria vita scrivendo in rapporto a dei titoli e quindi anche a un'argomentazione a volte pretestuosa a volte invece più approfondita degli elementi della tavola di Mendeleev oro ferro eccetera eccetera questa è la prima foto ufficiale di Levi sta nella nella copertina nel risguardo insomma di la tregua Levi è come dire è uno scrittore che se lo si vede da vicino si nota come il suo sviluppo progressivo è fatto di gradini a volte non molto alti ma visto da fuori diciamo visto attraverso la lente di ingrandimento della critica letteraria o anche diciamo così del riconoscimento letterario ci sono proprio come dei salti dei gradoni tra l'uno e l'altro allora questa è una foto curiosa perché vediamo un Levi completamente diverso adesso ve ne faccio vedere una subito siamo della stessa epoca questa è la foto di Levi al premio strega che non vince che vince Natalia Gainsbourg con questo libro bellissimo libro straordinario libro anche questo che potremmo dire memorialistico perché è la storia della sua famiglia cioè Lessico Familiare che è un libro meraviglioso guardatelo in giacca a cravatta con la sigaretta è la foto presa esattamente lì dove sono riuniti a Villa Giulia al ninfeo di Villa Giulia dove tradizionalmente si votavano i libri dell'anno e c'era la cinquina che entrava nella finale e Levi è entrato ed è arrivato terzo non è primo la parola su primo come questo nome ma anche come aggettivo sostantivo aggettivo nome proprio Levi ci ha giocato molto è in giacca a cravatta qui invece abbiamo un Levi probabilmente una foto scattata in montagna siamo la tregua esce finito di stampare il 23 marzo 1963 non si sa chi l'abbia scappato probabilmente è una foto familiare a un certo punto come gli editori chiedevano delle foto e uno portava le foto della famiglia tra l'altro c'è un dettaglio molto interessante perché la famiglia Levi è una famiglia di fotografi sia il padre che il nonno di Primo Levi e anche il figlio cioè da tre generazioni quattro generazioni scattano fotografie qualcosa che è molto di più di un album di fotografia Renzo Levi una volta ne ha parlato così ne ha accennato e io mi sono permesso di dirgli ma quando è che faremo o farai una mostra di queste foto della famiglia Levi dove c'è la storia di Torino delle persone dei luoghi della Torino ebraica adesso poi torneremo anche su questo tema dell'ebraismo che è il sottofondo il fil rouge di queste conversazioni è un'istantanea curiosa intanto diciamo questo nel 58 il libro è stato stampato dai naudi anche questa è una storia molto bella c'è da dire che fino al 2016 fino al 2016 la prima edizione di Se questo è un uomo esisteva solo nelle biblioteche o nei bibliofili che avevano questo libro tirato in 1500 coppie o forse poco più non si sa tra i 2005 e i 1500 libro che non ha circolato molto non c'erano foto se non nell'elemento pubblicitario questa è la prima vera foto nel 58 quando il libro viene ristampato dai naudi non c'è nessuna foto di Levi il libro viene ristampato grazie a due stimatori che sono Luciano Foa segretario generale delle naudi l'uomo che poi fonderà insieme a Bobby Bazzan la casa di Adelphi e Paolo Boringhieri che a sua volta darà vita a queste edizioni scientifiche staccando le edizioni scientifiche e naudi e dando vita a una casa editrice propria molto importante per la divulgazione scientifica in Italia e soprattutto per la traduzione delle opere di Freud e di Jung come vedete si intrecciano le vicende biografiche letterarie ma anche editoriali perché spesso per capire un autore bisogna anche conoscere non solo il libro ma anche la storia che gli sta intorno è una foto diversa dalle altre la biografa inglese Carol Hanger che ha scritto una biografia molto interessante pubblicata da Mondadori la messa in apertura del capitolo della biografia dove parla di Primo Levi Partigiano che cos'è che lo induce la indotta insomma a classificarlo come tale forse l'assenza della cravatta Primo Levi era un uomo borghese appartiene alla borghesia ebraica torinese è laico non è credente forse il termine giusto non è ateo ma agnostico e qui è una foto forse della montagna ecco l'idea che il partigianato i partigiani stanno in montagna e quindi hanno il maglione non hanno la camicia hanno questa chiedo scusa non hanno la cravatta sulla camicia c'è questa cravatta sbottonata e anche questo sguardo che vedete richiama anche lo sguardo iniziale c'è qualcosa di Levi che continua che si coglie nei suoi occhi gli occhi sono tutto come si diceva dicevano gli antichi sono lo specchio dell'anima ecco la tregua la tregua è un racconto che solo grazie all'intervento di Calvino entra nei coralli che è la collana della narrativa Enaudi è un libro di narrativa Levi lo ha concepito come tale c'è molta fiction c'è anche invenzione c'è anche quella che poi Levi ha definito insomma come una sorta di adattamento ha massaggiato ha massaggiato i suoi personaggi li ha anche trasformati poi quando il timore principale che Levi aveva cioè quello di continuare a essere un testimone ma al tempo attesto di essere uno scrittore questi due poli della sua personalità che si fondono per nostra fortuna in un'unica identità però ponevano un problema di tipo etico morale a Levi stesso cioè lo scrittore come sappiamo inventa crea c'è un'invenzione letteraria fiction questa parola anglosassone dice molto bene c'è un elemento di finzione il testimone non può fingere ma noi sappiamo benissimo adesso dopo tanti studi documentazione raccolta di testimoni biografie che molti degli episodi di si questo è un uomo non si sono svolti esattamente come Levi li racconta il culmine letterario di cui parlavo prima cioè il canto di Ulisse quando fu chiamato a dire la sua da Levi stesso il piccolo disse io non mi ricordo di questa di questa di questo avvenimento questa lettura traduzione del canto di Ulisse fatta da primo Levi mentre trasportavano la zuppa sulle spalle con medante delle stanche questi pentoloni della zuppa del mezzogiorno c'è proprio un intervento un intervento narrativo da parte di Levi e io cito sempre questa bellissima conferenza fatta da Mario Barenghi che ha un titolo formidabile perché crediamo a Primo Levi crediamo a Primo Levi perché è uno scrittore cioè la sua capacità che è da un lato linguistica la lingua di Levi è una lingua particolare anzi forse probabilmente fu quella lingua che urtò la sensibilità letteraria di Pavese che tendeva a una ricerca del neorealismo di portare il neorealismo nella letteratura invece è una lingua molto classica è una lingua che probabilmente dentro cui si sentono anche echi diciamo così della retorica classica persino di quella del fascismo pensate che esiste un dante fascista che è stato molto importante nella propaganda del regime e che ha come dire segnato di sé per lungo tempo c'è anche un dante risorgimentale come c'è un dante che ama la libertà quindi un dante antifascista ecco questa lingua è il primo segnale della sua forza letteraria il secondo segnale è sicuramente la capacità di tenere dei registri diversi che vanno dal saggio il capitolo centrale che si titola i sommersi salvati come l'opera finale della sua vita l'ultima opera che Levi pubblicherà nell'86 è un vero e proprio un mini saggio sul potere all'interno dell'Ager sulla costruzione dell'Ager ed è un'analisi dell'animale uomo cioè del modo con cui ci si sofferma su quanto è innato o invece è indotto dai contesti quindi è una grande discussione su che cos'è la natura umana ma ci sono dei capitoli e delle parti anche all'interno di questo capitolo i sommersi salvati in cui Levi presenta quattro ritratti di salvati e li riesce attraverso questa sua prosa molto secca molto ritmata quasi al limite del paratattico in alcuni punti molto limpida molto precisa precisa ma dove usa spessissimo gli avverbi io mi ricordo che nei temi della scuola superiore l'avverbo era quasi abolito veniva sottolineato si usa il verbo ma non si usa l'avverbo Levi ama molto gli avverbi con una punteggiatura dove il punte virgola quasi scomparso oggi dalla scrittura letteraria domina il punto fermo la virgola ha ceduto il passo ad altro e il punte virgola è sostanzialmente scomparso quindi Levi è uno scrittore allora passiamo a questa foto che ce ne sono due che vi faccio vedere siamo sempre nello stesso periodo quella precedente che vi ho mostrato poco fa è probabilmente una foto presa in montagna o comunque in un contesto familiare o comunque conviviale questa invece è una foto da paparazzo se possiamo dire così è la serata dello strega è una foto scattata dall'istituto luce che ne possiede i diritti vediamo che è un Levi molto diverso da quello precedente è anche il nostro modo con cui ci formiamo l'immagine di uno scrittore adesso se scorro tutto vi faccio un salto un salto esagerato ecco adesso qui sono troppo vediamo se riesco ad arrivare alla 19 ecco questo è Levi che noi conosciamo è Levi che noi guardiamo che pensiamo che ci immaginiamo mentre leggiamo i suoi libri no? è interessante nel caso di Levi più di altri scrittori questo aspetto per cui mi sono soffermato sulle fotografie perché proprio c'è come una specie di empatia potremmo dire così empatia tra l'immagine e il contenuto dell'opera di Levi lui si definiva un uomo di buona memoria ecco qui abbiamo questa questa è una foto anche di René Burri che è Burri che si voglia di origine italiana che è uno dei grandi fotografi del del novecento grande ritrattista ma insomma apparteneva alla Magnum questa grande cooperativa che ha riunito alcuni dei fotografi più importanti del del novecento diciamo della dagli anni dagli anni 30 40 in poi Capra era stato Capra è stato il fondatore della casa editrice allora vedete questa foto così giovanile accompagnata da un'altra foto sempre la stessa serata sono due sono due fotografi completamente diversi questo è Carlo Riccardi adesso qui non sto a soffermarmi ma insomma è l'epoca della Roma dei paparazzi Riccardi era uno dei paparazzi della dolce vita romana che attorniavano Mastroianni Fellini altri protagonisti dell'epoca epoca mitica insomma che è rimasta al centro anche del nostro immaginario e non solo il nostro perché l'Italia è anche per gli stranieri esattamente il neorealismo cioè la guerra la fine della guerra e poi questi anni segnati dal cinema principalmente di Fellini appunto che è la dolce vita è girato di tre quarti l'ha fissato in un'espressione inusuale rispetto alle altre immagini scattate da fotografi professionisti questo è un professionista no? la immagine prima che abbiamo visto quella legata alla tregua non è un'immagine professionale non c'è la pose ma sicuramente c'è il tentativo che cosa del fotografo di cogliere qualcosa anche sembra un ragazzo qualcosa di estremamente infantile mi ha ricordato una cosa che ho sentito dire da Eddie De Bruyne anche lei è un ex deportato e poi sarà ospite in questa serie di incontri ha parlato una volta della parte infantile che c'era in primo Levi parlando di una in una intervista che poi è stata filmata io ero presente mentre la registravano Edith ha detto proprio una cosa che la cosa più bella di Levi era questa sua parte una parte lei ha proprio detto testualmente da proteggere come se dentro di lui ci fosse un bambino piccolo da amare anche questo è un altro tema che sarebbe anche da sviluppare questo aspetto emotivo emozionale che in Levi che sembra uno scrittore molto come dire molto analitico mai freddo ma sicuramente diciamo non porta fino al massimo il riscaldamento sentimentale l'emozione in Levi c'è è comunicata ma per esempio è sempre impastata con la con la critica con la comprensione col tentativo di capire è un'empatia molto molto particolare quella di Levi che transita moltissimo attraverso l'aspetto intellettuale ma che contiene dentro di sé come dice Eddie Brut questo aspetto che poi pian piano scompare quando entriamo nelle altre immagini della sua vita ecco questa siamo nella stessa epoca è chiaro che nel 63 vincendo quello che è la prima edizione del premio Campiello questo chimico torinese scrittore non professionista scrittore della domenica come lui stesso si è definito ironicamente autoironicamente Levi è molto ironico questo è una foto scattata sempre nel 1963 quando Luigi Silori che gestiva questa trasmissione Rai facendo interviste la Prodo era andato a trovarlo a Torino dopo la vittoria del Campiello Silori era anche lui un ex deportato quindi aveva una sensibilità ecco vedete c'ha la sigaretta in mano c'è un elemento anche di pose il librone aperto dietro la libreria guardando con attenzione avvicinando la rete di ingrandimento si vedono i libri che probabilmente sono quelli di cui lui parla nel sistema periodico cioè i libri paterni che lui ha ereditato vedrete poi nelle foto quando ci muoveremo un po' più avanti per descrivere altri aspetti della sua vita si riempirà di altri libri soprattutto di raccoglitori uomo molto metodico anche per lo stesso mestiere di chimico che fa ecco il mestiere di chimico è quello che crea la sorpresa non c'è è la prima volta che si apre diciamo la possibilità di vincere il campiello perché è la prima edizione però quello che sorprende tutti è lo vince un chimico uno che non è un professionista della 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 letteratura e Silori lo va a trovare Levi dice guardate che il libro da leggere non è questo il suo solito sottotono un po' di presa di distanza quell'elemento anche di timidezza dice il libro importante è il primo che ho scritto però Silori gli sta addosso insomma gli dice ma come è il primo ma tu non sei uno scrittore la letteratura non è il tuo primo mestiere e lui dice sì non è il mio primo mestiere io sono un impiegato ecco si definisce in questo c'è un video che potete vedere su youtube che è ambientato nella stessa situazione nella stessa casa che è molto divertente perché si apre con con Levi che è giusta una macchinina del figlio lui si definirà a un certo punto uno scrittore e non scrittore si tiene lontano da diciamo dalla letteratura to cure la letteratura che è ancora allora più di oggi poi ci sono stati gli anni 70 con un grande cambiamento diciamo così gli scrittori selvaggi gli scrittori venuti dal nulla o gli scrittori con altri mestieri Tobino che era uno psichiatra e altre figure di questo genere non lo scrittore scrittore noi abbiamo in mente sempre diciamo così Sciascia che era un maestro elementare ma poi ha fatto prevalentemente lo scrittore Calvino che è lo scrittore per eccellenza scrittore della casa di Tricennaudi Pasolini che è diciamo l'icona della seconda metà del novecento che incarna il poeta lo scrittore anche il regista insomma le mille figure che ci sono nella sua personalità letteraria la paura che Levi ha è di essere un falsetto di aver lasciato la testimonianza per la letteratura più che un pensiero è un cruccio qualcosa che lo assilla questa foto è stata scattata a casa di Primo Levi in corso a re Umberto 75 indossa lo stesso abito la stessa cravatta che si vede nella registrazione televisiva ci sono questi mobili moderni dietro di lui non si capisce se la sigaretta è accesa non si vede non si vede il fumo che cosa sta leggendo forse un manuale ecco è la paura di di non essere creduto perché l'elemento della letteratura è in netto contrasto così come lo pensa Levi per un certo punto è un uomo come dire sempre con due parti lui si definirà un centauro questa figura con due nature una natura animale il cavallo è anche il protagonista di un suo racconto questo è una parte umana curiosamente il centauro è anche un personaggio che compare in Pasolini c'è un'intervista di Pasolini proprio intitolata con la parola centauro sicuramente in modo diverso da Pasolini è uno scrittore con due identità con due realtà le due che conosciamo appunto il chimico e lo scrittore ma c'è anche la dualità tra italiano e ebreo Levi dirà più volte lo ripeterà di sentirsi per due terzi italiano il finale della tregua è il ritorno in Italia non va in Israele come il carro dei giovani che si aggancia aggancia il vagone alla locomotiva e al treno che sta trascinando verso l'Italia i sopravvissuti sono sopravvissuti dall'Agra ma anche soldati italiani che erano prigionieri non va come questi giovanotti che vanno a costruire lo stato di Israele torna in Italia per due terzi dice mi sento italiano ma un terzo sono ebreo e a questo un terzo tengo moltissimo con il passare degli anni Levi comincerà a diventare un personaggio abbastanza famoso qui siamo diciamo sempre con la stessa physique du rôle con la stessa identità che è quella del premio Bagutta che riceve nel 1967 per il suo libro Storia naturale che è un libro di racconti un libro di racconti il cui editor è stato Calvino che gliel'ha come dire letto riletto consigliato che è cresciuto lentamente Calvino ne sentiva la presenza dello scrittore il paradosso di questo libro forse ormai lo saprete è il fatto che lui l'ha pubblicato con un pseudone Damiano Malabaila Malabaila cattiva baglia cattivo latte l'atto è andato male questa foto è una foto scattata da una fotografa importante che scomparsa da pochi anni Carla Cerati che è stata anche una scrittrice e ha pubblicato anche per Enaudi che ha pubblicato alcuni libri uno molto famoso insieme a Gianni Berengo Gardin quello sui manicomi italiani nell'epoca di Basaglia Morire di classe edito da Enaudi ma insomma ci sono altri libri uno molto bello del 74 Mondo Cocktail che è la Milano degli anni 70 anni 60 anni 70 prima della Milano da bere quella insomma Craxiana degli anni 80 c'è la Milano del Cocktail la Milano diciamo mondana delle presentazioni di mostre di libri di incontri mondani è una foto interessante perché come dire vedete anche il puntum di questa foto che non è Levi anche se noi guardiamo Levi ciò che attira il nostro sguardo è soprattutto questa signora con questi occhiali scuri che probabilmente è Fiora Vincenti che insieme al marito Mario Micinesi dirige una rivista che si chiama Uomini e Libri una rivista diciamo non di serie A non sono le riviste conosciute è una rivista di divulgazione ma molto interessante a cui Levi partecipava attraverso una serie di risposte a questionari o anche scrivendo degli articoli e lei è la prima persona che scrive un libro su Primo Levi questo questo libro uscirà solo nel 73 uscirà nel 73 poi c'è successivo e questo esce da Morsia successivo c'è un castoro era una collana molto bella quadrata forse qualche di uno che ha la mia età insomma se lo ricordo perché era una collana di libri che forniva dei ritratti di autori contemporanei italiani e stranieri e aveva delle bellissime copertine molto 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 inventive quindi Levi diventa uno scrittore tra il 73 e il 75 e corrisponde grosso modo poi la sua riconoscimento alla pubblicazione di Sistema Periodico e La Chiave a Stella sono due libri che escono praticamente a breve distanza 75 e 78 La Chiave a Stella poi lo porterà alla vittoria nello strega quindi vince i due più importanti premi letterari italiani che continuano ad essere diciamo i premi più quotati ancora oggi nell'ambito della nostra letteratura è interessante questo primo libro di Fiora Vincetti perché racconta tanti dettagli del modo con cui Levi ha scritto i suoi libri c'era come un mistero se vogliamo dire così allora i dati lo scritti o manoscritti dell'opera di Levi sono poco noti anzi non sono accessibili c'è accessibile soltanto una parte dei dati lo scritti che Levi ha consegnato a Enaudi a partire dalla tregua ci sono dei dati lo scritti circolanti dati agli amici ma non esiste il quaderno che pure sappiamo esistente in cui ha scritto sia la tregua e anche probabilmente i quaderni o i dati lo scritti di sequestro un uomo c'è come una specie di ritegno da parte di Levi è una mia ipotesi questa che faccio insomma il fatto che Levi temesse la cosiddetta filologia degli scartafacci cioè quella dei filologi che vanno a vedere le varianti che pure ci sono e in parte le ho documentate sia nell'edizione del 97 delle opere di Levi sia in questa nuova edizione del 2016 17 perché è interessante vedere come Levi scriveva Levi voleva essere uno scrittore ma sentiva la necessità di essere un testimone e non voleva probabilmente che si approfondisse questo aspetto filologico che mette in luce anche il suo lavoro di scrittura di rifacimento ma anche di invenzione la fiction come dicevo prima della sua personalità di scrittore non ci sono molte foto sono quelle che vi ho fatto vedere adesso poche altre varianti magari dello stesso Rullino non ci sono molte foto che ritraggono Levi in situazioni mondane quasi esclusivamente quelle scattate ai premi letterari solitamente intorno a lui c'è il mondo letterario in queste foto scrittori scrittrici giornalisti culturali editori che Levi freconta in modo quasi clandestino come ho detto prima usa l'espressione scrittore non scrittore che è uno simaro ovviamente ma questo suo modo di cautela rispetto al fatto che ci sono sempre questi due elementi di questo centauro è composto da un testimone e da uno scrittore noi sappiamo però oggi ex post che lo testimone è rilevante perché c'è lo scrittore che lo avvolge ne dà forma dalla lingua la struttura e il modo di esprimersi non c'è una sola riga di Levi compreso anche quella degli epistolari che non abbia un tasso letterario rilevante ma non è il tasso letterario manierato manierista è sempre sobrio ma molto preciso sempre l'uso del linguaggio tecnico che è il linguaggio del chimico nel sistema periodico e poi lo vediamo soprattutto per chi l'ha letto nella chiave a stella dove l'esperienza di Faussone montatore di gru di ponti di Derrick che sono questi piloni che servono poi per l'estrazione del petrolio e per altre attività di tipo minerale è curioso perché c'è un racconto di Levi che si chiama La cena in piedi un racconto poco conosciuto i racconti di Levi hanno cominciato ad essere presi in considerazione dai crisi soltanto dagli anni 90 e adesso soprattutto i giovani scrittori o giovani critici si interessano molto alla narrativa non non direttamente testimoniale cioè la narrativa fiction degli scrittori questo racconto a cui io mi rifaccio è del 77 si chiama Cena in piedi il protagonista è un canguro che partecipa a una serata mondana in casa di una signora probabilmente è un'ambientazione milanese la Milano del mondo cocktail di Carla Cerati insomma di questa brava fotografa che noi conosciamo si traveste da animale per entrare nel mondo nel mondo che gli è strano è straneo ecco è un canguro invitato in un salotto borghese dove a un certo punto conversa con una signora che gli confessa le sue pene d'amore che per nutrirsi non può certo bere il bicchiere di bollicine ma è costretto a mangiare le foglie di una pianta dell'appartamento allora facciamo un salto eccolo qua si è già trasformato no? gli anni sono passati questa è una foto del 77 quella che guardavamo prima è una foto di dieci anni dieci anni in dieci anni si è stempiato i capelli si sono imbiancati comincia a assumere quel viso quel volto ecco quel volto che li conosciamo e che quando pensiamo a Primo Levi con un suo libro in mano ci viene immediatamente in mente questa sua immagine questa è Canale d'Alba la piazza del municipio è la domenica 30 settembre del 77 Paola Agosti che è una bravissima fotografa che vive vissuta tra Torino e Roma è stata fotografa di donne dei movimenti femministi degli anni 60 e 70 si trova a passare di lì i suoi genitori sono amici sono anche loro coinvolti nella resistenza nella sinistra piemontese torinese vicina a giustizia e libertà vicina al partito d'azione l'ha fotografato per caso quasi per caso lei aveva sempre pensato di fare delle foto così mi ha raccontato ma non l'ha mai fatto non gli è sfuggito qui c'è l'inaugurazione di un monumento guardando un po' meglio i manifesti che ci sono dietro il nome di Levi non c'è l'hanno invitato dei ragazzi sono dei cristiani di base sono dei militanti della sinistra che inaugurano un monumento di uno scultore che rappresenta un generale un fascista e un capitalista con un soldato morto che indossa un elmetto ai suoi piedi è un'occasione che potremmo definire quasi allegra perché questo monumento che adesso si trova ad Acre in Sicilia è un'occasione per Levi quasi di felicità ecco questa è una delle foto in cui Levi sorride se voi vedete ritorno ce n'è un'altra bellissima adesso ve la faccio vedere subito se riesco ecco gli hanno appena detto che ha vinto il premio strega è questo gesto questo gesto che fa che è un gesto molto molto curioso perché di sorpresa che sorpresa ho vinto c'è la felicità guardate questi occhi gioiosi no? è stato sorpreso nella sua sorpresa dal fotografo che si chiama Angelo Palma che è un fotografo molto molto interessante è un fotoreporter è abbastanza nota perché ha fatto una foto che per un certo periodo è stata molto vista aveva fotografato un avversario politico di Fanfani mentre lo prendeva di spalle e lo afferrava per le orecchie ma insomma ha fatto tante foto soprattutto all'estero di fotogiornalismo c'è una linea di fotogiornalismo italiano molto ricca e molto interessante ma insomma torniamo a questa a questa foto del 1977 no? Levi non è solo uno scrittore serio è uno scrittore che sa sorridere e ridere è spiritoso e possiede una carica umoristica che non è sempre facile da accogliere però c'è un suo amico conoscente insomma un altro personaggio anche questo molto interessante anche lui è un personaggio ibrido come Massimo Mila che è stato un grande musicologo pubblicato da Inaudi ma era anche un uomo di montagna come Levi più di Levi ha scritto molte cose sulle sue scalate sulle sue escursioni libri sulla montagna dato anche lui un partigiano quando Levi muore suicida nel 1987 Mila scrive sulla stampa il giornale di Torino su cui Levi scriveva spesso pubblicava anche poesie degli Elzeviri in terza pagina anche dei racconti e scrive una cosa che rascia abbastanza di stucco tutti in quella situazione lugubre tremenda tragica del suicidio parrà un'enormità scrive ma se mi chiedessero di definire con una sola parola lo scrittore direi che era un umorista ecco c'è un umorismo in Levi che sembra anche qui nell'antitesi anche qui abbiamo il centaur la dualità di un autore che ha a che fare col dolore se questo è un uomo non è una tragedia dobbiamo dirlo con molta chiarità non è nel genere letterario non è una tragedia racconta un evento tragico in modo molto serio ma non è scritto come una tragedia piuttosto si avvicina a quello che è il titolo dell'opera del grande maestro di Primo Levi cioè Dante Alighieri è una commedia ha anche un aspetto teatrale di rappresentazione questo lo si vede molto bene anche nella tregua dove addirittura c'è un capitolo dedicato a una messa in scena che avviene in questo campo di smistamento in Bielorussia dove nella cosetta russa bianca si trovano a un certo punto i reduci dai lager o dalle detenzioni gli ex militari eccetera prima di tornare in Italia in Levi c'è questo elemento comico comico e soprattutto umoristico perché l'umorismo fa parte di quell'aspetto possiamo dire empatico che c'è in Levi empatico verso chi? verso i suoi personaggi come ogni scrittore dona qualcosa di sé al personaggio che racconta e che descrive ma insomma vedo che l'ora passa rapidamente e volevo soltanto leggervi qualcosa di quel pezzo un pezzo sempre di Mila lo descrive così guardate la libertà che si consente sul giornale di Torino la città di Levi il giornale di Levi il giornale a cui lui collabora lo descrive così con grande libertà cortese affabile ma con quel fisico magro con quella barbetta scattante ecco questa è l'immagine che come dire si è consolidata in noi proprio perché a un certo punto cominciano a circolare tante foto di Levi diventa un personaggio e viene molto fotografato cortese affabile ma con quel fisico magro con quella barbetta scattante con quegli occhietti vivaci aveva qualcosa del camoscio animale che ispira tanta simpatia ma che si lascia avvicinare poco questo è il modo con cui Mila e non solo Mila percepisce questa discrezione questa distanza questa simpatia ma i camosci scappano il camoscio è un animale molto come dire molto piemontese i re d'Italia lo andavano a cacciare in Val d'Aosta nei monti del Piemonte questo è il perfetto commento insomma della fotografia di Paolo Agosti c'è questo camoscio primo Levi che sorride ora vi mostro rapidamente insomma altre due foto questa è una foto che mi piace particolarmente perché l'uomo con la Latina in mano è a questo anno 1979 vincitore nel 78 dello strega è il più noto scrittore italiano e oggi sicuramente è il più noto scrittore italiano nel mondo primo Levi e Calvino tra i contemporanei diciamo gli scrittori del ventesimo secolo e Dante sono gli autori tradotti per ragioni diverse che adesso non stiamo qui a spiegare oggi il suo nome lo conoscono tutti gli studenti se uno dice primo Levi non c'è nessuno in Italia che non abbia sentito almeno una volta il nome di primo Levi non abbia avuto tra le mani un suo libro ecco è molto bella questa foto perché niente di più normale che questo signore con i capelli bianchi il pizzetto d'alpino uno qualunque quasi uno di noi si sta girando verso il suo interlocutore tiene in mano questa lattina di birra con bicchiere di plastica e questo scrittore è diventato qualcosa più di uno scrittore ci ho detto prima che Pasolini è una delle icone problematiche ma sicuramente è una dell'icone l'icone anche del martire dell'uomo morto a causa delle proprie scelte della propria omosessualità della propria diversità della propria provocatorietà è il più importante e più famoso intellettuale della seconda metà del novecento con le sue provocazioni dall'altro lato c'è l'icona totalmente diversa l'icona Levi quella che cerco di mostrare con queste fotografie la normalità di Levi è la sua forza anche se sappiamo che in realtà non era per nulla un uomo normale per normale intendo dire un uomo senza conflitti senza problemi la sua stessa morte a causa della depressione perché questa è la causa principale una depressione di cui soffriva anche prima della deportazione ma almeno a me piace credere insomma che questo è il genio della porta accanto l'uomo normale il chimico piuttosto che un ingegnere o un fisico o un professore che ha qualcosa di geniale l'altra foto è anche questa è molto bella l'autore si chiama Giuseppe Varchetta non è un professionista è uno psicologo dell'organizzazione che ha scritto anche un piccolo ma bellissimo libro sul lavoro vedo che compare Angela forse il tempo sta finendo no Marco concludi perché appunto questa foto merita assolutamente un tuo commento bellissimo anche questa vai sì se poi non so quanto tempo ho di farvi vedere almeno altre tre foto prima solo vederle ah una te la prenoto io quindi due per te magari la stessa se me la riporti sì mi riportate su quella foto che stavamo vedendo prima questo è del fumo non so se teniamo le slide Andrea sì sì Andrea può per cortesia ah grazie Andrea allora fumare è stata per più di una generazione di scrittori intellettuali un'abitudine consueta non c'era nessuno che non avesse una sigaretta in mano Anna Arendt Fenoglio che poi è morto per un cancro ai polmoni Celati è stato un altro ci sono tante foto di Gianni Celati che fuma si fumava dappertutto al bar al ristorante insomma e si parla anche del fumo c'è il tabacco il maorca che è questo tabacco di scarto formato di schegge legnose che è in vendita nel lager e che è il protagonista di uno dei capitoli che si chiama di qua del bene e del male ecco io propongo anche l'idea di leggere un autore dai dettagli dai particolari ecco da questi aspetti come sembrano quasi secondari da cui si può ricavare qualcosa di qualcosa di più che la critica letteraria a volte non ci dice con le sue tecniche natalotologiche ecco c'è una bellissima battuta di Oscar Wilde che secondo me è perfetta per la fotografia dice mai fidarsi della prima impressione naturalmente si riferisce al rapporto con gli altri pausa è quella giusta quando guardate una foto l'impressione che vi dà di questo scrittore di questo personaggio contiene qualcosa di suo di particolare allora salto avanti faccio vedere le due foto che a me piacciono di più questa è una foto potremmo dire storica è stata sulla copertina di almeno uno o due libri di Mario Monge che è stato un fotorinese che ha fotografato delle foto di Calvino molto belle nel 1984 nel novembre lei si compra un golem cioè quello che voi vedete lì è uno dei primi Mac questa forma di parallelepipedo con questo video piccolissimo della Apple ed è stato uno dei primi che ha cominciato a a usare il computer per giocare a scacchi per fare dei disegni ma anche per scrivere io mi sono accorto quando ho avuto questa foto in mano ho l'originale dato dalla compagna di Monge che lì si vede una poesia sul monitor il soldato che non ha mai pubblicato da nessuna parte con una lente di ingrandimento l'ho decifrata per le parti che era possibile e le ho messe l'altra foto è questa insomma ecco questa è una foto su cui forse Angela potevamo parlare solo di questa foto tutta tutta questa ora che mi sono preso così in libertà ecco anche questa è la foto di Mario Monge sempre nell'86 e secondo me lì c'è l'essenza del mistero di Levi perché allora i grandi scrittori sono misteriosi i grandi scrittori sono come delle urne sono come delle tombe che noi dobbiamo aprire usando il piede di porco della nostra sensibilità intelligenza a volte con un temperino a volte invece facendo delle grandi leve per sollevare perché dentro ci sono dei segreti questi segreti non sono solo i segreti degli scrittori sono i nostri segreti perché negli scrittori noi troviamo noi stessi leggendoli li conosciamo e conosciamo meglio noi questa è la grande importanza la letteratura è un deposito di conoscenza sull'uomo e su se stessi ecco questa è quella che volevi vedere tu no Marco ecco questa è quella che volevo vedere io e volevo mostrarla ai nostri amici e amiche quella con Philip Roth perché non solo perché non solo perché abbiamo appunto nel nostro collegata il nostro gruppo Elena Mortara che è una delle specialiste delle massime studiose di Philip Roth in Italia ma al di là di questo anche per un particolare che è diventato un po' il fulcro della tua relazione di oggi Marco inedita devo dire è anche abbastanza spiazzante perché insomma pensare e parlare di Primo Levi pensare a Primo Levi ci porta a dei temi di una tragicità assoluta inutile far finta di nulla invece ho apprezzato e penso che questa sia un'opinione abbastanza condivisa il tuo puntare l'attenzione su l'umorismo di Levi e soprattutto su un aspetto anche visivo che è quello della felicità l'elemento della felicità di Levi che secondo me questa foto svela nella sua massima potenza io qui vedo davvero due persone felici in quel momento e come tu scrivi nel tuo libro in questo fototesto che già di per sé meriterebbe una lezione a parte solo per la sua forma appunto fototestuale come tu scrivi appunto è lo stesso Levi a parlare di felicità proprio se questo è un uomo ed è bella questa cosa che tu riprendi c'è il fatto che Levi dica che non esiste la felicità perfetta o l'infelicità perfetta non so se vuoi commentare vuoi continuare questo commento sulla felicità sull'idea di felicità e Levi che è un'idea già insomma che ci mette un pochino così in bilico in bilico le nostre certezze perché identifichiamo il Levi con lo scrittore il testimone colui che appunto la depressione poi si porterà via lo pensiamo infelice invece questa foto ce lo rivela felice beh questa è una foto che avrebbe c'è una storia molto bella di questa intervista che Roth viene a fargli accompagnata da Claire Bloom che allora la grande attrice che era molto amata da Levi lei capì che era anche un uomo infelice però la frase che tu hai citato è veramente straordinaria è la frase diciamo così di un assoluto relativismo dell'esistenza perché nell'esistenza umana bisogna essere preparati al peggio ma anche preparati al meglio e Levi ci dice una cosa di grande saggezza che tu hai citato la frase più o meno suona così cioè come non esiste la felicità assoluta perché nella vita diciamo le cose quotidiane di ogni giorno le fatiche insomma le tante cose fare la spesa il chiamarli idraulico preoccuparsi dei figli un problema che mi sono dimenticato mi hanno licenziato mi hanno abbassato lo stipendio insomma mille cose preoccupazioni che ci turbano non esiste l'infelicità assoluta e neanche la felicità assoluta è una è una specie di bilico in cui noi che ci consola ecco cioè non si è mai nel fondo dell'abisso anche se Levi si è suicidato gettandosi dalla tromba delle scale della sua casa che è un gesto tremendo che ci interroga che interroga lui e interroga noi poi Levi ha detto con molta precisione che nessuno neppure suicida sa le motivazioni per cui si compie questo gesto quindi è un mistero è un mistero non voglio dire che appartiene alla sacralità della vita ma sicuramente appartiene alla sacralità della morte che noi non sappiamo spesso non sappiamo più rispettare ecco però c'è questo elemento ci sono momenti di grande felicità come quando ah ho vinto il premio o qui insomma Roth era un grande scrittore all'epoca sarà lui che lo fa conoscere in America con la sua intervista da questo omino più piccolo vedete come Roth aveva ancora la barba all'epoca no? grande seduttore grande affabulatore con romanzi straordinari un uomo che ha avuto epoche diverse alti e bassi non tutti i libri sono meravigliosi però verso la fine della sua vita ci ha dato ci ha dato dei libri incredibili ecco lo va a trovare bellissimo perché anche qui il puntum se possiamo dire così è un puntum numerico quel 6 del calendario che si sfoglia adesso non ci sono ce ne sono pochi di calendari così adesso siamo abituati ai calendari appesi su cui noi cancelliamo i mesi o i giorni o li strappiamo lì si sfogliava giorno per giorno bellissimo questo calendario e lì in mezzo tra loro due il numero 6 che è il doppio del 3 è il numero perfetto e questo 6 è un numero bombato c'ha questa pancia però poi c'è anche questa parte che sale curiosa e sono davanti a una libreria uno appoggia la mano sullo scaffale e sorride e l'altro si vede che sta dicendo qualcosa che gli preme guardate la mano la mano sinistra di Levi e non c'ha la cravatta non c'ha la cravatta non ha la giacca è come se avesse abbandonato questo questo aspetto borghese no? e c'ha le maniche corte che permettono di vedere il tatuaggio del numero di Auschwitz sopra sopra il braccio ecco Levi è un uomo complesso è uno scrittore complesso che però ci raggiunge in una maniera molto semplice perché noi siamo persone complesse e la semplicità è come una porta per entrare per capire uno scrittore lui e tutti gli altri scrittori che ci interessano e che ci dicono qualcosa di importante per noi per la nostra vita Marco una grazie per questa magnifica ulteriore lezione e c'è un commento una domanda commento di Alfonso Alfonso Borghi magnifica lezione cosa potresti dirci del Levi che presenta in radio il radio RAI un proprio radiodramma il versificatore con la regia di Camilleri che rapporti ebbe con la RAI di Torino e qui potremmo fare altre quelle due o tre ore di lezione allora c'è un bellissimo scritto di Rodolfo Sacchettini su doppiozero punto com che racconta tutto il rapporto con Levi con la radio aveva scritto alcuni dei racconti che stanno in storie naturali che sono dialogati perché erano scritti per essere radiofonia la radiofonia ecco che è una parola che si usa che si usa poco insomma la parola radio ormai contiene dentro di sé tutto anche la parola podcast ecco si dice podcast e si dice radio insomma ormai è un unico media quello che ho anche sul tavolo il cellulare o anche il computer che usiamo per vederci per comunicare per parlare per ascoltare in questo momento sì Camilleri neanche scritto mi pare di ricordare più di una testimonianza addirittura che entrò in un teatro per vedere un'opera teatrale io non l'ho fatta vedere ma c'è su in alto una foto eccola qua la numero 8 di questa serie questa foto l'ha scattata un altro personaggio torinese che si chiama Aldo Zargani che l'autore di due o tre libri veramente magnifici un signore che è morto purtroppo poco tempo fa un paio di anni fa che ha scritto un libro che si chiama Per violino solo che racconta le sue peripezie è un libro straordinario di uno scrittore era lavorava alla Rai lui ha scattato questa foto perché la signora che è con la mano alzata Elena Magoia che ha anche fatto l'attrice appunto questo è il teatro delle dieci perché si faceva teatro alle dieci di sera a Torino in una piccola in un piccolo teatrino e lei dice questa frase molto in un'intervista dice il teatro mi mette allegria e ha scritto vari testi teatrali non nel senso della teatralità c'è la riduzione teatrale di Sequestro un uomo che è anche abbastanza complessa ed è una versione diversa sia da quella radiofonica che da quella letteraria delle due letterarie 47 e 58 sono radiofonie sono molto belle molto il versificatore il sesto giorno la bella addormentata nel frigo che tra l'altro è molto divertente dove c'è anche un elemento di pruderia sessuale diciamo che Leri molto pudico accenna con il suo solito umorismo grazie grazie Marco appunto questo veramente dicevo ci vorrebbe molto più tempo perché il rapporto tra Leri e il teatro apre un altro capitolo estremamente affascinante scriveva Marina interessante Pasolini boccia pavese e pavese boccia primo Levi era un commento insomma una chiosa rispetto a quello che dicevi anche tu non vedo altri amici e amiche scrivere in chat però insomma abbiamo capito insomma che la lezione di oggi di Marco Belpoliti non è stata solo una lezione su primo Levi una relazione su primo Levi perché attraverso primo Levi in filigrana abbiamo imparato molto anche su le relazioni fra scrittori Natalia Ginsburg Pavese Calvino lo stesso Pasolini e poi abbiamo imparato molto e di questo ti siamo molto grati Marco sulla storia dei fotografi perché abbiamo attraverso queste fotografie ci siamo interrogati anche su come dici tu che cosa vogliono nei fotografi quando fotografano e cosa vogliamo noi dai fotografi cosa esigiamo da quelle immagini che i fotografi ci donano quindi è stata una lezione veramente a tutto tondo perché ci ha raccontato molto di più di quello che ci aspettavamo inutile dire che appunto come scrivi anche tu nel libro citando la Sontag la fotografia non è solo un'immagine ma come vediamo qui è l'immagine di un'immagine noi abbiamo guardato Levi attraverso le fotografie attraverso altre immagini e qui si aprirebbe tutta la questione della moltiplicazione degli sguardi altrettanto interessante cioè noi che guardiamo Levi Levi che guarda il fotografo e quindi c'è un gioco di specchi continuo non vedo altri interventi in chat quindi se siete tutti d'accordo e tutte d'accordo io saluterei Marco Belpoliti con tutta la gratitudine possibile per questa lezione che ha inaugurato il nostro ciclo alla grande alla grandissima mi unisco anch'io ai ringraziamenti per una lezione veramente bella e interessantissima che spero molti poi possano seguire e riprendere grazie alla registrazione che abbiamo fatto anzi volevo ricordare l'avviso che aveva messo Andrea di tenere il link che avete ricevuto per seguire le prossime lezioni e quindi non buttate via la mail che avete ricevuto grazie davvero grazie davvero a Belpoliti grazie ad Angela sempre bravissima e alla prossima alla prossima lunedì prossimo ore 16 con Michele Cometa e Elie Wiesel altro autore di serie A a presto ciao ciao